Sono un imprenditore. Per mia fortuna non sono un produttore televisivo, sono un imprenditore che ha tantissimi interessi in tanti settori anche nella produzione televisiva e questo mi ha permesso, mi ha consentito di decidere di ribellarmi ad un sistema che adesso vi spiego un attimino. Non sono stato arrestato, indagato, sottoposto a indagini di qualunque tipo, non sono stato colto con le mani nel sacco, come in genere accade. L'imprenditore fa il furbacchione per un po' di anni, poi l'arrestano e si pente, si ricorda che c'era qualcosa che non andava e comincia a parlare. Niente di tutto questo. Io non ho avuto nessun problema con la giustizia, non ho problemi economici, perché in genere l'imprenditore che ha problemi economici si ricorda che ha dato le tangenti. Non ho problemi economici, sto benissimo, campo benissimo e sono gratificato da quello che faccio. Se ho deciso di parlare, e di spiegare un po' di cose, è soltanto perché mio nonno diceva che se hai due soldi e non ti fai rispettare è giusto che il Padre Eterno te li tolga. Siccome io non voglio che me li tolga, mi voglio far rispettare. E voglio dare un piccolissimo, infinitesimale contributo alle ragioni di questo Paese, l'Italia. Io un po' di anni fa, cinque anni e mezzo fa, ho ricevuto una richiesta di tangenti da un dirigente RAI. Vi dico onestamente che non era la prima volta, cioè c'erano stati anche altri episodi, però in genere, siccome voglio dormire tranquillo e voglio sapere che se alle cinque di mattina suona il citofono è un ubriaco e non è la Guardia di Finanza che mi viene ad arrestare, in genere faccio finta di non capire. Ho sempre fatto finta di non capire la cosa si è risolta lì. In questo caso specifico non ho potuto far finta di non capire, perché questo signore ha cominciato a reagire in maniera istorsiva. Cioè ha cominciato a fare dei danni all'azienda, ha cominciato a comportarsi in maniera delinquenziale. Ho parlato con i miei avvocati. I miei avvocati mi hanno detto, fai finta di accettare, piglia un microfono e lo incastriamo. Dico, guardate che io ho un prestigio e una dignità da difendere. Cioè domani io sarò in riunioni con persone che hanno qualcosa da perdere, con persone che in gergo si dicono persone importanti. Io non posso accettare l'idea che queste persone possano minimamente pensare che io giro con un registratore in tasca. Queste cose non le faccio. Cioè allora ti devi attrezzare per un lungo percorso, piano piano, a raccogliere le prove. Io ho presentato denuncia alla magistratura e un mandato copia della denuncia alla direzione generale RAI. E mi sono fermato. Sapete che cosa è accaduto? Che l'ufficio etico della RAI mi ha chiamato. Io ho confermato tutto. Ha detto bisogna aspettare i tempi della magistratura. Perfetto. Però guardate caso. Io da quel momento non ho avuto problemi. Ho continuato a lavorare benissimo. La società ha continuato a lavorare benissimo perché non spingevo. Siccome i tempi della Procura della Repubblica di Roma sono mediamente 6-7 anni, se presentate una denuncia arriva al dunque dopo 6-7 anni. Siccome i miei avvocati non premevano perché avevano interesse a che io raccogliessi materiale, io lavoravo tranquillamente. Fino a quando i miei avvocati mi hanno detto guarda che il materiale c'è. E allora io sono andato alla Procura della Repubblica e ho cominciato a muovermi attivamente. Ma l'ho fatto dopo aver mandato il mese prima, 30 giorni prima, un dossier di 18 pagine al direttore generale Gubitosi che era appena arrivato. Quindi pensavo che fosse nella migliore condizione. Cioè gli davo una roba assurda per nomi, cognomi, date, fatti, tutto, con tanto di firma sotto, di fronte a una roba del genere. Uno che cosa pensa? Che un direttore generale che è appena arrivato e che ha un minimo di coraggio, un minimo di senso etico, ti chiama e ti dice scusa un po', vieni qua, fammi capire, tutto quello che tu hai detto sei in grado di confermarlo? Dopodiché faccio un minimo di indagine, io direttore generale. Se la cosa non corrisponde al vero, per tutelare l'azienda e per tutelare il mio dirigente, i miei dirigenti, perché poi ce ne sono stati anche altri di casi ovviamente, ti denuncio per calunni e diffamazione, faccio gli interessi dell'azienda e tu telo i miei dirigenti. Se invece tu sei in grado di convincermi, allora piglio provvedimenti e ripulisco l'azienda che amministro. Se una roba del genere io l'avessi fatta col pasticcere sotto casa e avessi detto al pasticcere sotto casa, guarda che il tizio che mi viene a portare le paste la domenica mi chiede dei soldi, penso che per tutelare la sua azienda, quel pasticcere si sarebbe mosso, no? La reazione incredibile, ecco perché il caso gubitosi, la reazione incredibile di questo signore è stata, primo, passava lì per caso, donna Bondio, passava lì per... mi hanno detto che... l'ufficio legale mi ha detto che non ci sono gli elementi. La Procura della Repubblica ha fatto partire avvisi di garanzia, sei mesi di indagine, ulteriori sei mesi di indagine. Quindi qualche elemento c'era, qualche elemento c'era. Io non so se ci sarà di mio aggiudizio, processo, archiviazione, non lo so. E rispetto profondamente quello che fa la magistratura. Quindi, non lo so, però qualche elemento per ascoltare chi parlava e per non buttare quel papiello nel cestino, ci doveva essere. Il senso etico del Direttore Generale e un minimo di coraggio avrebbero consigliato, fammi capire, no, totalmente la cosa non mi interessa. Al che mi attivo ancora di più con la Procura della Repubblica. Sapete qual è il risultato? Il risultato è che il nemico della RAI e il nemico di Gubbitosi sono io. E quindi la mia società, che fatturava 18 milioni di euro, da un anno non lavora più. Poi farò delle... Da un anno non lavora più sulla RAI. Questo cosa comporta? Perché io, guardate, io mi sento non un uomo fortunato di più tutte le mattine dopo che ho fatto stretching, mi metto in ginocchio e ringrazio il Padre Eterno per quello che mi ha dato e che mi dà. Perché io me ne posso fregare. L'azienda di produzione televisiva rappresenta il 15% del mio fatturato e del mio guadagno, della mia famiglia. Quindi posso dire, sai che c'è? Ma... E chiudo il discorso. Però forse ci stanno dei momenti nella vita, forse, in cui uno deve prendere coscienza di quello che fa, di quello che il Padre Eterno gli ha dato, e dire, no, e qui bisogna che mi impegno un attimino. Anche perché il messaggio devastante, che non capisce i gubitosi, è che nessuno più parlerà nella RAI quando qualcuno chiederà le tangenti. Nessuno parlerà più. Quando è uscito sulle agenzie che io avevo denunciato una richiesta di tangenti in RAI, io ho ricevuto tante mail di gente che mi diceva, siamo nella stessa condizione, vogliamo anche noi unirci. E tra le tante persone che io ho sentito e ascoltato, ce n'è stata una, che non dico che mi ha fatto le lacrime agli occhi, ma poco ci mancava. Uno sceneggiatore, mi quereli gubitosi, mi quereli, uno sceneggiatore, quindi non un industriale, un finanziere, una persona che lavora e a fine mese piglia lo stipendio. Uno sceneggiatore è venuto da me dicendo che pagava le tangenti sull'emolumento delle sceneggiature. Gli ho detto, guardi, ne parliamo col procuratore della Repubblica. Dopo venti giorni, quando si è sparsa la voce che il direttore generale aveva dichiarato guerra alla LDM, questo signore è venuto da me, mi ha chiesto, dottore, lei mi deve giurare sul suo figlio che non fa il mio nome, perché altrimenti lei mi rovina, io non lavoro più. Io gli ho risposto di guardia, stia tranquillo, non voglio assolutamente, stia tranquillo, non faccio il suo nome. No, no, lei mi deve giurare, si è messo in ginocchio di fronte a me, mi deve giurare che non fa il mio nome. Cioè, allora, di fronte a fatti come questo. Se io ho la fortuna, e ho la fortuna, di campare bene a prescindere dalla RAI e da gubitosi, io sento il dovere sacrosanto di passare il resto della mia vita a far conoscere questa roba. Perché io me lo posso permettere, ma c'è gente che deve ingoiare. Ed è. Quando si dice la RAI, la RAI, c'ha 12.000 dipendenti, mi pare. La stragrande maggioranza, e ne conosco tanti, tantissimi, lavorano in maniera precaria, con pochi soldi, fanno turni assurdi. Cioè, non è la RAI. La RAI è una grande azienda, come ce ne stanno tante, nella quale il senso del dovere è fortissimo. Poi, come in tutti gli ambienti, in tutti gli ambienti, ci stanno dei delinquenti. E il dovere di chi gestisce questa roba è di tutelare i 99,99 onesti e perseguire, anzi perseguitare i delinquenti. È questo che non ha capito gubitosi. Qui è il caso gubitosi. Io mi sono chiesto più volte per quale motivo gubitosi avesse reagito in quel modo. Cioè, con questa totale indifferenza nei confronti di una cosa che, secondo me, qualunque imprenditore, qualunque amministratore un po' avveduto avrebbe fatto. Mi sono dato una risposta. Perché, malgrado fa i pomeriggi sociali di preghiera, non so che diavolo fa, il senso etico non è altissimo. Evidentemente non capisce la gravità del messaggio che lui sta mandando fuori dalla RAI. Ma, secondo voi, ci sarà un matto che denuncia una richiesta di tangenti. La richiesta di tangenti che mi è stata fatta è stata che io avevo un programma che veniva quotato in RAI, non da altri, da quel signore che mi ha chiesto le tangenti. Fino a un mese prima veniva quotato 278 mila euro a puntata. Dopo che non gli ho dato la tangente, lo stesso programma, dalla stessa persona, è stato quotato 204 mila euro a puntata. Cioè io ho perso 74 mila euro a puntata per 10 puntate, 740 mila euro all'ordo delle tasse. Se avessi accettato di pagare 100 mila euro di tangente, mi sarei portato a casa 640 mila euro su quel programma. E quei soldi li pagavate voi, li pagava la RAI, li pagava il contribuente italiano. Gubitosi questo? Non lo capisce. O è troppo distratto? Troppo distratto? Deve pensare ai grandi affari, ai grandi problemi. Cioè queste cose piccole così non le capisce. Questo è il problema vero. Allora, di fronte a una situazione del genere, io ho sentito il dovere, il dovere, e mi ci impegnerò finché è campo, il dovere di denunciarla e di andare avanti. Non lavorerò più con la RAI? Chi se ne frega? Probabilmente ci sarà un magistrato che mi risarcirà di questi danni. Probabilmente. Se non ci sarà, va bene uguale. Però qualcuno mi dovrà spiegare dove ho sbagliato. Cioè io sono un cittadino inonesto, senza nessun problema, faccio l'imprenditore, denuncio un delinquente, anzi più delinquenti, e il direttore generale di questa azienda, il management di questa azienda, ritiene che sia io il nemico. Sapete perché? Ve lo spiego in parole povere. L'arbitrio. L'arbitrio è una cosa bellissima. Per chi dirige e pensa che dirigere sia comandare, avere la possibilità di muoversi arbitrariamente è una goduria sessuale. Allora, vi faccio soltanto un esempio. Il direttore di RAI 1, Fabrizio Del Noce, tra parentesi io mi ritengo un uomo fortunatissimo, perché nella mia carriera professionale, sono passato da occuparmi di Del Noce al rettore di Cambridge, Serbo Rizic. Ogni mattina nelle mie preghiere, ringrazio il Padre Eterno, voi lo capite facilmente, no? Allora, il direttore di RAI 1, Del Noce, non ha più fatto lavorare Fabrizio Frizzi, un signor conduttore RAI, per sette anni, perché aveva osato criticare una sua scelta riguardo a Miss Italia, una cavolata pazzesca. Non l'ha fatto più lavorare per sette anni. Cioè, il povero Frizzi poteva in qualche modo reagire. No, perché lì c'è una cupola che ognuno fa come gli pare. Vi faccio un altro esempio. Montesano, Montesano, con la sua vena comica, fece una battuta su sempre Del Noce, sui costumi sessuali Del Noce, fece una battuta al Teatro Sistina di Roma. Da quel momento non ha più lavorato in RAI. Ovviamente sono casi, è tutta casualità, no? Come un caso che possa accadere che possa accadere che la LTM non lavora più. Sapete che cosa mi hanno risposto? Siccome io poi mi ci diverto, perché il bello di avere i famosi due soldi è che io non sono ossessionato da questa cosa. Io campo benissimo a prescindere. Quindi non è che sto lì a mordermi i gomiti, le dita. È una delle tante cose che faccio, perché sta nella mia agenda. Questa roba qui significa che io, senza essere ossessionato, me ne occupo e me ne occuperò per i prossimi anni. Gubitosi e compagni possono stare tranquilli, che adesso sono già un paio di deuzze su Los Angeles, il cinema, su Cannes. C'è un paio di deuzze. Perché questi signori, perché poi il discorso è che i famigli a volte fanno danni più dei nemici, questa conferenza stampa, se non fosse stata presa dal Gubitosi e compagni, il gruppetto, come una roba fuori dall'altro mondo, sarebbe stata mezz'ora, un'ora, quant'è, che passava nel Parlamento europeo, tra una roba sulle cozze in Sicilia e l'ambiente in Venezuela. Adesso non c'è più un parlamentare italiano, un parlamentare europeo, non c'è più un giornalista che non sappia di questa roba. Sapete perché? Perché la reazione di Gubitosi e compagni nella loro arroganza è stata furibonda. Guardate che l'onorevole fidanza merita il premio Nobel del coraggio. Perché questi signori ne hanno fatte di tutti i colori. Cioè ieri sera i telefoni con Strasburgo, Bruxelles erano non roventi, di più. Perché poi sono pure dilettanti allo sbaraglio, no? Pensavano che facevano quattro telefonate e risolvevano il problema. Si chiama un vicepresidente della Commissione europea, un vicepresidente del Parlamento europeo, per gli disdici, fai saltare la conferenza stampa. Ma dove stanno questi? Ma dove campano? Ma dove campano? E li fanno pure i direttori generali della RAI. Ma dove campano? Il problema di fondo... Quindi io non mi sento una vittima, per niente. Mi sento un privilegiato. Perché mi posso concedere il lusso di venire a parlare di questa roba. E questa roba io, quella registrazione, la farò postare su due siti. www.tangentirai.it e www.ilcasocubitosi.it. In modo che il mondo possa capire di che si tratta. Perché sapete perché? Perché questi signori girano nei palazzi e chi non mi conosce sente quello che dicono loro. E quindi probabilmente c'è qualcuno che assume anche un atteggiamento di malanimo. Un atteggiamento di malanimo. Se si dà la possibilità di parlare, perché hanno messo un melo di protezione, cioè l'informazione italiana è tutta acquattata. Tra le parenze vi voglio dire una cosa. Sono cinque anni che io ho denunciato per iscritto, cinque anni che ho denunciato per iscritto questi delinquenti che mi hanno chiesto le tangenti. È un anno che vado dicendo, scrivendo sui giornali, mandando due mila e cinquecento mail a volta, vado dicendo queste cose. Sapete quante querelle mi sono arrivate? Nessuna. Nessuna. Cioè non mi hanno querelato quei delinquenti in Rai che io ho denunciato perché mi hanno chiesto le tangenti. Non mi hanno querelato i grandi dirigenti della Rai perché si sentono offesi quando parlano col Vice Presidente del Parlamento Europeo e gli dicono che loro sono oggetto di mobbing da parte mia. Capite? Cioè io faccio mobbing alla Rai. Neanche una querela. I miei avvocati mi dicono, speriamo che ne arriva una, così assumi il ruolo di indagato e col ruolo di indagato possiamo chiedere degli atti istruttori. Stanno tutti acquattati proprio sotto i banchi. Non ce n'è uno. Ovviamente ogni volta che arriva un giornalista abbiamo dato mandato ai nostri legali di... Ebbene gli avvocati romani sono i più pigri del mondo. Ricevono mandati da cinque anni e non trovano il tempo di fare una querela a me. L'onorevole Ansaldi della Commissione di Vigilanza Rai ieri ha fatto un lancio a DN Cronos, ho visto, ha chiesto al Ministero della Giustizia di verificare perché ci sono dei ritardi da parte della magistratura sull'analisi di questi fatti. Intanto voglio ringraziare l'onorevole Ansaldi dell'interessamento. Comunque ha sbagliato totalmente purtroppo l'obiettivo. La Procura della Repubblica sta facendo il suo lavoro alla grande. Sta lavorando. Io mi affido alla Procura della Repubblica. Dopodiché se ci saranno gli elementi per un rimio a giudizio io sarò soddisfatto e mi costituirò parte civile. Se non ci saranno gli elementi e la magistratura riterrà di archiviare io me ne farò una ragione, salvo che continuerò in maniera proprio senza nessun limite, continuerò a dire tutto questo in attesa che mi querellino e allora il processo lo faremo con me imputato di calunnia, di diffamazione se qualcuno si sente diffamato e io andrò in tribunale a difendermi a dire le mie ragioni. E poi vediamo se in quella sede cambia l'imputato, di fatto. Per il momento ho finito. Vi ringrazio dell'attenzione. Se c'è qualcuno che mi vuole chiedere qualcosa io sto qui. Se ci sono domande naturalmente è soltanto la parte dei giornalisti. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Mi scuso per essere arrivato, ho potuto arrivare solamente nell'ultima parte ma vorrei possibilmente capire qual è la parte iniziale. Cioè tutto ciò è una denuncia perché non ha trovato finora ascolto di tutto questo? Questo è il punto centrale? Tutto ciò è molto semplice nel senso che io ho fatto il mio dovere. Un imprenditore che riceve in un'azienda a capitale pubblico. L'avrei fatto anche in un'azienda a capitale privato. In un'azienda a capitale pubblico è ancora più doveroso. Riceve una richiesta di tangenti oltretutto estorsiva. Secondo me ha il dovere di denunciare la cosa alla magistratura e di avvertire i vertici di quell'azienda. Io l'ho fatto. Non so se lei ha sentito. Il risultato è stata la reazione della direzione generale e dei direttori di rete di Rai Fiction che hanno semplicemente escluso l'azienda dal panel di fatto dei fornitori Rai. Cioè da quando è venuto fuori sui giornali che io avevo denunciato questi signori, la società non ha lavorato più. Questo è quello che è accaduto. Dopodiché io mi diverto a mandare le lettere alla direttrice di Rai Fiction, Leonora Andreatta, al direttore di Rai 1, Leone, al direttore di Rai 2, per chiedere di presentare dei format. Ognuno di loro si comporta secondo carattere e secondo esperienza. Allora c'è l'imbarazzo di Teodoli che dice sì sì adesso verifichiamo e vediamo un attimo se la rete... e fa passare tre mesi. Poi si rifà un altro appuntamento e quindi gioca così. C'è l'atteggiamento di Leone, non per niente ha giocato nei giardini del Quirinale, quindi è un gran signore, il quale riceve alla porta i dirigenti della LDM, è gentilissimo, li accompagna alla porta, dopo aver detto eh ho analizzato le vostre proposte ma ho fatto un focus. Vi faccio fare una risata. Sapete che cos'è un focus in Rai? Un produttore fa una proposta di programma. Il direttore, i capistruttura, i suoi uomini di prodotto analizzano quella proposta e decidono se è il caso di approfondirla o meno, se è il caso di parlarne o meno e poi se è il caso di farla o meno, se è compatibile economicamente. Cioè c'è un processo industriale che giustamente porta al... si fa, non si fa. Nell'ambito di questo processo c'è una cosettina, il focus. Cioè viene sottoposto quel prodotto, quell'idea, viene sottoposta ad un gruppo di ascolto. Allora uno si immagina mille persone che ricevono una serie di input, di domande. Io ho partecipato a una di queste, poi non ci sono andato più perché non c'ho tempo da perdere. Sei persone, sei persone intorno a un tavolo, voi pensate prese una al nord e una al sud, una laureata e un'alfabeta, una donna, non lo so. Sei persone intorno a un tavolo con un capo struttura della Rai che ovviamente è in grado di... è una chiacchierata al bar, né più né meno. Ed è in grado di portare quelle sei persone su una parte o su una risposta o sull'altra, no? Perché se io mi metto lì, capo struttura della Rai, e dico no, ma questa roba è troppo banale, è chiaro che le sei persone dall'altra parte. Eh sì, effettivamente, però se dico, e questa è l'idea di Einstein, è troppo forte. Eh sì, allora, quindi questo è il focus. Il direttore di Rai 1, Leone, che è un gran signore, ripeto, ha giocato con i pantaloncini corti nel cortile del Quirinale, nei giardini del Quirinale, quindi è uno che sa vivere, ha fatto fare i focus sulle idee presentate dalla LDM, il focus è stato negativo. E quindi non si può fare quel progetto. Invece la direttrice di Rai Fiction, Andreatta, che c'è un nome importante, il Presidente del Consiglio, che io considero una persona di altissimo livello, sono convinto che di queste robe manco se ne occupa, il Presidente del Consiglio è amico di famiglia, dà una vita e discepolo di Andreatta. Quindi una persona un po', come dire, maliziosa potrebbe pensare che Tinni e Andreatta è una specie di assicurazione sulla vita per Gubitosi, no? La persona maliziosa, io non lo penso. Tinni e Andreatta semplicemente non risponde. Non risponde. La LDM ha fatto prodotti come il Capitano, una serie Fiction su Rai 2, record d'ascolto su tutti i programmi di Rai 2, di tutti i tempi. Cioè il programma più visto nella storia di Rai 2. Ha fatto fiction come Butta alla Luna, che hanno fatto, mi pare, il 34% su Rai 1. 34%. Non si è fatta più. Di fronte a una società che ha questo curriculum, da 15 anni, non ieri, ha avuto un colpo di fortuna. La Andreatta non trova il tempo per ascoltare il direttore creativo, il direttore editoriale della LDM. Da che dipende, secondo voi? È distratta, non lo sa. Che cosa deve fare? Vi chiedo, sono io che faccio una domanda a voi. Che cosa deve fare un imprenditore onesto che denuncia dei delinquenti? E ripeto, io non è che sto dicendo per la prima volta qui denuncia dei delinquenti. Io l'ho messo per iscritto sui giornali. Denuncio dei delinquenti che mi hanno chiesto le tangenti, con nome, cognome e date. Questo signore non viene quel relato. L'unica cosa che si fa è che si erige un muro. E che cosa fa il direttore generale? Ecco perché è il caso Gubitosi. Anziché dire, ragazzi, che cavolo succede qui? Mi fate capire? No, il pio moralizzatore Gubitosi fa la guerra a me. Con un'arroganza, una supponenza degna di miglior causa, telefona i vicepresidenti del Parlamento e della Commissione europea per dire che non mi devono far stare qui a parlare. Non è che si preoccupa che nella sua struttura ci sono dei delinquenti che creano dei danni ai colleghi. Non si preoccupa di questo. Si preoccupa di mettere la mordacchia a me e non ci riesce. Perché, per sua sfortuna, io non dipendo da lui, né la mia vita professionale né il mio portafoglio. Non dipendono da lui. Campo bene a prescindere da Gubitosi e dalla RAI. E quindi, per i prossimi anni, lui se ne deve fare una ragione. C'è ora questa spina nel fianco. Vediamo, a questo punto, con il massimo rispetto, ma proprio non con il massimo. Di più, io ho insegnato all'Università della Sapienza etica delle istituzioni al corso lobby master. Ho insegnato etica delle istituzioni, quindi per me le istituzioni sono al di sopra chiunque ricopra quella carica. Se una carica è istituzionale, per me va rispettata. Sia la magistratura, sia le cariche istituzionali di governo, parlamentari, eccetera. Quindi, come ho detto che ringrazio la magistratura. Guardate, alla Procura di Roma c'è gente veramente, a cominciare dal Procuratore Capo, c'è gente veramente indipendente e veramente brava. E quindi io mi affido tranquillamente. Quello che verrà fatto mi sta bene. Poi mi sono rivolto con grandissimo rispetto, anzi con deferenza, non per piageria, ma perché lo sento. Mi sono rivolto al Presidente della Repubblica. Ho mandato una lettera al Presidente della Repubblica e gli ho detto, caro Presidente, accade questo. Ora, vi invito a trarre una conclusione. Il Presidente della Repubblica non mi ha risposto. Io sono, siccome conosco bene le istituzioni, conosco i meccanismi, io sono convinto di quello che è successo. Il Presidente della Repubblica non è che riceve una mia lettera. Riceve 30.000 lettere al giorno e ci sarà un ufficio che si occupa di smistare questa roba. Arriva una roba che parla di tangenti in RAI, di un imprenditore che lamenta un trattamento, eccetera. C'è un funzionario che che fa? Alza il telefono e chiama il Direttore Generale della RAI per chiedere lumi su quella cosa. Questo signore, ecco perché il caso Cubitosi, che cosa fa? Risponde, ah ma questo è un imprenditore che ci prova, che fa qualcosa. Cioè minimizza da una parte e dall'altra cerca di screditare. È sempre il Direttore Generale della RAI, quindi per definizione è una persona che va ascoltata. Che fa il funzionario del Quirinale? Mette una nota, il Direttore Generale della RAI dice che questa roba è inesistente. E quindi nella migliore delle ipotesi quella roba al Presidente della Repubblica non arriverà mai. Oppure, se proprio si devono cautelare, tra Presidente, guardi che Obama ha deciso domani mattina all'ONU, si sta valutando, eccetera. Poi c'è la questione siriana, abbiamo deciso di mandare la nave di fronte alle coste, eccetera. Poi, a proposito, c'è una lettera che ha mandato uno lì alla Direzione Generale della RAI, parla di tangenti, ma ho già parlato con il Dottor Gubitosi. A proposito, il Dottor Gubitosi chiede se può essere ricevuto. Sapete la barzelletta? Una quindicina di giorni dopo che io avevo mandato questa lettera al Quirinale, esce un lancio dell'ANSA, tre righe. Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale la Presidente della RAI, il Direttore Generale e il Direttore dei Rapporti Istituzionali, poi ci occuperemo anche di lui, della RAI. Cioè, voi capite che nel messaggio cifrato mi è stata data una risposta dalla RAI. Non ci provare. Cioè, non ti mettere contro la RAI, una valanga di telegiornali, consulenze, ospitate televisive, soldi senza problemi. Cioè, una macchina da guerra, un Moloch che da solo basterebbe ad annichilire tutti quelli che stanno qui dentro. No, ci mettiamo a fianco l'Alitalia, chiedo scusa, l'ENI, perché c'è un signore dell'ENI che se ne occupa molto di questa vicenda. Poi ci mettiamo a fianco la Banca d'Italia, la Presidente, e poi qualche altro poteruccio e qualche sodalizio di quelli grossi, dice, non fare il matto, rilassati. No. No. Vi dico una cosa. Io sono tornato dagli Stati Uniti venti giorni fa. Quando sono arrivato al check-in, ho chiesto, dico, senta, mi fa annusare i bagagli prima di mandarli sul tapirulano? Me li fa annusare dai cani antidroga? Perché può accadere di tutto. Perché io mi sono convinto, e mi quereli, gubitosi, larai, mi querellino tutti. Io sono convinto che mi è stata fatta una domanda, ma non c'hai paura delle conseguenze? Certo che c'ho paura delle conseguenze. So che sto contro l'ira di Dio, però chiarisco subito. Non c'ho scheletri negli armadi, non c'ho problemi. Se dovesse accadere qualcosa che mina la mia credibilità, state pur certi, è inventata. È inventata. Quindi ho paura delle conseguenze, sì, ho paura delle conseguenze, ma non mi fermo uguale. Allora, con grandissimo rispetto, con deferenza, io mi appello al Presidente della Repubblica affinché faccia chiarezza. Io so che non compete ai suoi poteri, però so anche che la statura morale di Giorgio Napolitano gli consente di intervenire per fare chiarezza su questi argomenti. Sapete qual è l'alternativa? Che di Lorenzo a un certo momento, io per fortuna, ripeto, adesso faccio un mestiere bellissimo, gratificante da morire, guadagno benissimo, a un certo punto potrei, ma non ci penso proprio, potrei decidere di lasciar perdere e potrei godermi la vita. Sapete qual è il risultato di questa vicenda? Che quei delinquenti che in RAI hanno chiesto le tangenti a me si sentiranno più forti e più liberi, perché nessun altro, ve lo posso garantire, questo è quello che dovrebbe capire quell'arrogante di Gubbitosi, nessun altro denuncerà più un delinquente. Qualcuno mi deve spiegare perché. Se si denuncia un mafioso che chiede il pizzo a Palermo, ho visto che il Presidente degli Industriali di Palermo, di Catania, aveva denunciato un mafioso che gli aveva chiesto il pizzo. Immediatamente c'è stato il coro del plauso. Finalmente qualcuno si ribella ai mafiosi e si ribella al pizzo, perché questo Paese non potrà decollare mai fino a quando ci saranno le sacche di impunità e fino a quando gli imprenditori continueranno ad accettare la corruzione, continueranno ad accettare l'estorsione. Perfetto. Io l'ho capito. E perché se un imprenditore, anziché denunciare, compare Turiddu, denuncia un paio di delinquenti in Rai, gli distruggete l'azienda? A questa domanda deve rispondere Gubbitosi, il pio moralizzatore Gubbitosi. Grazie a tutti.